Ciao e bentornata sul mio canale. Se è la prima volta che passi di qui, io mi chiamo Silvia e sono la Quiet Coach. In questo show trovi strategie per aiutare le piccole imprenditrici e le lavoratrici in proprio a organizzarsi meglio, a guadagnare di più e a gestire meglio il proprio tempo e quindi il proprio business online. Il tutto ricordandoci sempre che fatto è meglio che perfetto. Nel video di oggi ti porto sulla strada della libertà finanziaria raccontandoti sette atteggiamenti mentali che potrebbero farti restare povera. Partiamo! Primo atteggiamento sbagliato. Pensi che i soldi siano la causa di tutti i mali. Viviamo in un mondo che ogni giorno ci fa vedere quanto bene possono fare i soldi, ma nonostante questo per molte persone i soldi sono la causa di tutti i mali. Lo sai che in realtà questa frase è incompleta? L'apostolo Paolo, da cui questa frase è stata presa, scrisse che l'amore per i soldi è la causa di tutti i mali, non che i soldi sono la causa di tutti i mali e c'è davvero una bella differenza. In effetti amare troppo i soldi porta all'avidità e l'avidità porta a gettare all'ortiche la propria moralità e fare tutto quello che è necessario proprio per accumulare capitali. Non è un bel vedere, soprattutto se guardi le tantissime cose belle che i soldi possono creare. I soldi ad esempio aiutano le associazioni benefiche a fornire dei pasti, a costruire delle scuole, delle case, delle scuole, degli acquedotti e anche a dare riparo e cibo agli animali abbandonati. Con i soldi si possono costruire le chiese, si possono costruire le moschee, le sinagoge, dei campi sportivi, dei parchi, dei parchi giochi. I soldi ci aiutano a combattere le malattie e l'inquinamento atmosferico e sono necessari per ogni nuova invenzione e per ogni scoperta umana. Vedi, i soldi non sono la causa di tutti i mali, sono la causa di tante cose belle nel mondo. Se vuoi diventare finanziariamente indipendente devi essere convinta che i soldi siano una figata, perché se pensi che siano qualcosa di terribile inconsciamente farai di tutto per respingerli. Se fai ancora fatica a pensare al denaro come qualcosa di bello, pensa sempre che più soldi hai, più puoi aiutare gli altri. Atteggiamento sbagliato numero 2. Pensi di aver diritto ai soldi. Molte persone, e forse anche tu, si sentono in diritto di avere denaro. Sono convinte di meritarsi un aumento, che il governo debba occuparsi della loro pensione e che i ricchi dovrebbero provvedere ai loro bisogni. Se vuoi cambiare la tua storia finanziaria, però, devi smettere di pensare che siano gli altri a doversi far carico delle tue finanze. Devi accettare il fatto che sei tu ad avere il controllo sul tuo benessere finanziario. Se vuoi più soldi, devi creare più ricchezza. Più cerchi dei modi per guadagnare di più, più porte si apriranno anche in modo inatteso. Terzo atteggiamento sbagliato. Sei spaventata dall'investire in te stessa. Warren Buffett dice che il migliore investimento è quello che puoi fare in te stesso. Per quanto questo atteggiamento sia fondamentale, pochi lo conoscono e lo mettono in pratica. Lo so, investire denaro per te stessa fa paura. E non credere che per me sia sempre stato facile fare tutti gli investimenti che ho fatto in formazione e in tecnologie per creare questo business. Però ricordati, sei l'unica persona al mondo e nella tua vita su cui hai e avrai sempre il totale controllo e soprattutto un investimento fatto su di te non sarà mai in vano. Le conoscenze e le capacità che impari grazie ai libri, a corsi e alle consulenze che acquisti si sommano le une con le altre e diventano l'asset più importante. Sarà più facile fare soldi in modi diversi e sarà sempre più facile. Il primo passo però è investire su te stessa perché nessun altro può decidere questa cosa al posto tuo. Quarto atteggiamento sbagliato. Segui la massa. Ok, lo sappiamo. La pressione delle persone intorno a te può essere fortissima, ma per diventare ricca devi resistere a questa pressione e iniziare a nuotare controcorrente perché purtroppo la massa non è ricca. Se non sanno come diventare ricchi, perché dovresti fare quello che fanno loro e copiarli? Un esempio è il mercato azionario. Quando le azioni scendono, gli investitori inesperti che cosa fanno? Vendono. Vendono le proprie azioni e quindi il valore di queste azioni scende ancora di più. Per gli investitori esperti quando succede questo è come se fosse Natale, perché possono acquistare le azioni pagandole poco e quando il mercato risale, perché risale, raddoppiano o triplicano il proprio investimento. Se segui la folla raggiungerai delle opportunità di business già sature. Per diventare ricca devi trovare opportunità che non sono ancora diventate dei trend. Quinto atteggiamento sbagliato. Pensi, io non posso. Ecco un altro atteggiamento mentale limitante della nostra società. Parliamo e pensiamo spessissimo in termini negativi. Parliamo di cose che non possiamo fare, che non possiamo permetterci, che non vogliamo, che non siamo disposte a. Ci focalizziamo tantissimo sulle cose che non possiamo fare, anziché sulle cose che vogliamo o possiamo fare. E questo crea un problema. Perché nel momento in cui pensi, non posso avere successo, non sarò mai ricca, il tuo cervello smette di funzionare, oppure ancora peggio cerca prove della veridicità di queste tue affermazioni per non contraddire se stesso. Inizia piuttosto a chiederti come posso avere successo o come posso diventare ricca. In questo modo il tuo cervello, che odia le domande rimaste senza risposta, inizierà a cercare soluzioni ai tuoi problemi e dei modi per raggiungere il tuo obiettivo. Quindi smetti di dirti che non puoi permetterti qualcosa e inizia a pensare a come potresti trovare i soldi per comprarlo. Sesto atteggiamento sbagliato. Non conosci la differenza fra poter comprare qualcosa e potertelo permettere. Questa cosa è fondamentale, ma non è così chiara a tutti. La capacità economica di comprare qualcosa non vuol dire che te la puoi davvero permettere. Diciamo, facciamo un esempio, diciamo che hai 2000 euro sul conto dei risparmi. Tecnicamente nulla ti vieta di comprarti il volo per New York da 2000 euro. Puoi comprarlo? Ok, ma puoi davvero permettertelo? È saggio comprare quel volo se hai soltanto quei 2000 euro nei risparmi e spesi quelli non hai più niente da parte? No, non è molto saggio. Poterti permettere qualcosa vuol dire che quell'acquisto non avrà un impatto forte sulla tua situazione economica. Avrai ancora abbastanza denaro da spendere in cose necessarie e importanti. Nel momento in cui devi controllare quanto hai sul conto, per essere sicura di poterti comprare, non so, il volo, il nuovo smartphone, è evidente che non puoi permettertelo. Usa piuttosto quel denaro per fare degli investimenti, in modo che i tuoi soldi iniziano a lavorare per te e con un po' di pazienza potrai comprarti il nuovo smartphone o il famoso volo per New York. Settimo atteggiamento sbagliato. Dici che i soldi non sono un argomento che ti interessano, i soldi non ti interessano. Anche se cerchi di convincerti che i soldi non ti interessano, ti interessano. A meno che tu non vivi in un eremo o su un'isola deserta, i soldi ti interessano, ti riguardano, anche solo per le tue necessità quotidiane. Senza soldi non puoi comprare il cibo, non puoi comprare i vestiti, l'elettricità, l'acqua. Viviamo in un mondo in cui i soldi sono molto importanti e anche se per qualcuno è una brutta cosa, in realtà è una cosa bellissima, perché i soldi ci hanno permesso di costruire questa società, che comunque è una società complessa e forte. Dato quindi che i soldi sono molto importanti, è necessario impegnarti per avere una cultura finanziaria. Dovrebbe essere una delle abilità più coltivate, invece è totalmente ignorata anche dal nostro sistema scolastico, che in realtà dovrebbe prepararci alla vita, ma vabbè. Se vuoi avere una cultura finanziaria, devi fartela da sola. E in fondo, dai, fra libri, siti web, insomma, siamo in un mondo in cui non è poi così difficile. Cosa ne pensi di questi sette atteggiamenti mentali? Hai capito che ce n'hai alcuni da risolvere? E qual è il primo su cui lavorerai? Ti aspetto qui sotto nei commenti per sapere qual è l'atteggiamento mentale che ti ha risuonato di più e qual è appunto il primo su cui lavorerai. Ci sentiamo nel prossimo episodio, un bacio!